4 arresti e sequestri per un valore di oltre 2 milioni di euro. E' questo l'esito delle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Barletta che hanno permesso di svelare un sistema fraudolento basato sulla creazione di falsi crediti di imposta in capo a società e persone fisiche collegate agli organizzatori della frode. Nello specifico, la truffa ai danni dello Stato consentiva alla cooperativa di usufruire di crediti fiscali inesistenti derivanti da bonus facciate, ecobonus, ristrutturazioni edilizie e investimenti al mezzogiorno per lavori edilizi ed investimenti mai sostenuti e in alcuni casi su immobili addirittura inesistenti. In questo modo dunque, tramite l'utilizzo illecito di tali crediti fittizi di un valore stimato per oltre 2 milioni di euro gli organizzatori della frode riuscivano a non versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali riducendo e o addirittura azzerando il debito nei confronti dell'erario. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani ha accolto dunque la richiesta di applicazioni di misure cautelari personali e reali formalizzata dal PM nei confronti dei quattro soggetti indagati di cui una in carcere e altre tre ai domiciliari. Tra i beni sottoposti a sequestro, per un valore di oltre 2 milioni di euro ci sarebbero anche sette autovetture, due moto oltre a svariati orologi di importante valore.